Amici di TechAndroid.it, benvenuti in questa nuova recensione che andremo a scoprire Honor 8 uno smartphone Android che abbiamo scoperto lo scorso mese durante la presentazione a Parigi adesso lo abbiamo tra le mani, abbiamo deciso a differenza di tantissimi altri colleghi di far uscire la recensione un pochettino più tardi proprio per testarlo a fondo mi è piaciuto tantissimo il design, hardware molto simile a quello del P9 e Android 6.0 che conferisce allo stesso un'ottima usabilità andiamo a scoprirlo insieme dopo la sigla iniziale eccoci qui, eccoci in compagnia di Honor 8 come detto nell'introduzione ho preferito aspettare qualche giorno in più per recensirlo e testarlo perché mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto spremerlo al massimo e scoprire sia i pregi che i difetti mi è piaciuto il design, mi è piaciuto l'hardware e soprattutto l'ottimizzazione Android l'hardware ricorda moltissimo il P9 e anche la doppia fotocamera sul posteriore doppia fotocamera sul posteriore che è stata un pochettino mozzata cioè non c'è la funzione da bianco e nero e sembra che scudendo la fotocamera monocromatica non accade assolutamente nulla quindi è come se fosse disattivata adesso la scopriremo nella recensione andiamo subito a scoprire il design, il design è molto interessante i materiali lungo il perimetro scorre appunto una banda blu questa è la colorazione blu che è molto molto bella in alluminio parte frontale con un display da 5.2 pollici mentre la parte posteriore il back panel è ugualmente in vetro ed ha un effetto davvero davvero bello eccolo qui non so se riuscite a vederlo sotto la luce del sole vi assicuro che il blu risalta tantissimo e mette in mostra tutte le caratteristiche del dispositivo parte frontale troviamo la fotocamera da 8 megapixel e il sensore di luminosità che ha qualche problemino forse sarà software adesso ve lo farò vedere in alcuni casi cosa mi è successo? è successo che la luminosità si regolava al minimo e il display non si vedeva sotto la luce del sole non è l'effetto flash il display quindi non si vede come potrebbe vedersi un S7 o un S6 e sempre la parte superiore troviamo l'altoparlante qui c'è addirittura il led di notifica molto bello inserito proprio l'altoparlante superiore quindi è molto elegante mentre nella parte posteriore cosa troviamo? troviamo la doppia fotocamera da 12 megapixel con una risoluzione di 3968x2976 i pixel registra in full hd quindi niente 4k proprio troviamo il sensore laser per la messa a fuoco appunto laser degli oggetti vicini e il doppio flash led importante cosa servono due fotocamere? servono una che dovrebbe catturare in monocromatico quindi bianco e nero mentre l'altra è la semplice fotocamera cattura i colori qui troviamo il lettore di impronte digitale che ha doppia funzionalità quindi quella di sbloccare il dispositivo oppure quella di associare determinate funzioni infatti è facilmente cliccabile quindi basta cliccarlo per accedere a funzionare come l'accensione del led come torcia o effettuare una foto o tanto altro lungo i dati che cosa scorre? scorre il bilanciare del volume volume aumentare volume diminuire volume il tasto di accensione spegnimento parte bassa troviamo la cassa che si sente molto molto bene andremo a testare tra poco l'ingresso type c e l'ingresso delle cuffie da 3,5 ingresso cuffie che è stato eliminato su iPhone ma Huawei continua ad utilizzarlo mentre sulla parte sinistra troviamo il piccolo alloggiamento della sim questo è un prodotto dual sim quindi consente di utilizzare due sim contemporaneamente oppure una sim più una micro sd fino a 128 giga quindi potete decidere se utilizzare uno non posso utilizzare l'altro io l'ho testato sia con micro sd che con doppia sim visto che ha diverse funzionalità all'interno che consentono di switchare le sim in modo semplice e veloce il display è molto molto bello non mi ricordo se vi ho detto la risoluzione che è un full hd da 1080 x 1920 pixel con una densità di 424 ppi è un IPS LCD con 16 milioni di colori andiamo subito a sbloccarlo forse vi sto annuiando dicendo tutte le caratteristiche del dispositivo ha una fluidità davvero incredibile personalizzazioni non ce ne sono da parte di Honor cioè non ci sono applicazioni all'interno particolari troviamo solamente i giochi quindi i classici giochi come Asphalt Dragon Mania o tanti altri alcuni sono in versione demo quindi dobbiamo acquistarli per utilizzarli andiamo a parlare un attimo dell'hardware che cosa monta? come ho detto in precedenza è molto molto simile a Huawei P9 si vede qui ci ha messo la mano Huawei per creare l'Honor 8 monta un processore octa core che ha una frequenza di 2.3 GHz è un 64 bit una GPU Mali T880 all'interno ha ben 4 GB di RAM che vengono sfruttati veramente in modo ottimo si possono tenere aperte in centinaia di applicazioni senza rischiare alcun rallentamento esistono due versioni la versione da 32 GB che è quella che avete sotto all'interno del vostro schermo e la versione da 64 GB il prezzo è di 399 euro quindi un prezzo davvero interessante andiamo a vedere le impostazioni allora prendiamo le impostazioni vi faccio vedere che versione di Android monta monta Android 6.0 quindi eccolo qui con la versione 4.1 a me è piaciuta tantissimo questa interfaccia l'interfaccia logicamente non c'è il classico menu delle applicazioni ma bensì è tutto sulla schermata home lo dico in questo modo per i meno esperti a me è piaciuta tantissimo perché è fluida e sinceramente mi sono trovato benissimo durante l'utilizzo quali applicazioni sono state inserite all'interno? è stata inserita l'applicazione diciamo medica vediamo se riesco a recuperarla allora tramite gli strumenti allora prima di farvi vedere applicazioni medica vi voglio far vedere gli strumenti che sono la gestione dei file l'orologio il meteo la quadrice blocco onore il registratore queste sono alcune applicazioni che sono state inserite dagli ingegneri Honor la torcia lo specchio lo specchio ha una funzionalità molto carina infatti eccolo qui soffiando all'interno del microfono che si trova nella parte alta eccolo qui si appanna lo schermo vediamo se ci riusciamo ve lo volevo far vedere eccolo qui si è appannato lo schermo funzionerà molto carina e divertente ok abbiamo visto la questa funzionalità riandiamo un attimo sugli strumenti eccolo qui troviamo la bussola la possibilità di effettuare i backup i download sono stati effettuati la gestione della sim e il comando smart infatti prima mi sono dimenticato di dirvi una cosa molto importante nella parte superiore c'è il sensore ad infrarossi sensore ad infrarossi che serve per comandare dispositivi dotati di questa tecnologia come connessionatori tv videoregistratori o tutto quello che consente di essere controllato tramite infrarossi e carina anche l'applicazione magic tag che consente di controllare dei tag come quelli dell'automobile oppure quelli che acquistiamo o tanti altri e associare determinate azioni torniamo indietro e andiamo a vedere l'applicazione benessere l'applicazione benessere che consente appunto di tenere traccia dei nostri spostamenti allora andiamo un attimo ad impostare il nickname perché ho cancellato l'ità di questa applicazione appunto per la recensione ok tramite questa applicazione è possibile avere un obiettivo di passi che viene calcolato il peso in questo modo e avere un'interfaccia completamente innovativa dove vedere tutta l'attività fisica che facciamo durante la giornata e logicamente sfrutta accelerometro gps tutto quello che è all'interno appunto di honor 8 ho notato che c'è una certa discrepanza tra i dati offerti da honor 8 e quelli di un garmin o di un gear ok torniamo indietro andiamo a vedere che cosa altro c'è c'è temi temi cosa serve serve per switchare i temi quindi scegliere quale tema vogliamo impostare di temi ce ne sono davvero tantissimi io mi sono perso nella scelta del tema fino a ritornare a quello di default troviamo l'applicazione per l'assistenza il calendario video musica e email andiamo subito a vedere invece la fotocamera la fotocamera è come detto una 12 megapixel quindi una 12 megapixel che ha fa delle foto veramente ottime allora facciamo con la fotocamera posteriore ok ora siamo con la fotocamera posteriore prendiamo ad esempio un mouse e vediamo la velocità di scatto la velocità di scatto molto molto buona la cosa che ci ha sorpreso che la doppia fotocamera dietro anche oscurando quella del bianco e nero le foto non cambiano di moltissimo ecco la fotocamera allora questa è la fotocamera del bianco e nero adesso sto coprendo solamente la fotocamera appunto del bianco e nero ecco qui e questa è la foto con con la fotocamera aperta quindi come potete vedere differenze particolari non ce ne sono e andiamo poi a vedere la modalità le varie modalità troviamo la modalità profoto la modalità bellezza consente di scattare delle foto migliorando il viso video con risoluzione full hd quindi ma anche al 4k 4k che è stato introdotto nell'ultimo smartphone huawei nova plus quindi il primo smartphone con risoluzione 4k di huawei pro video che consente di regolare tutte le impostazioni del video e questa è una funzione molto carina se non utilizziamo per qualche secondo la fotocamera questa si spegne entrando in modalità di risparmio energetico la possibilità di scattare foto a cibi la modalità panorama hdr questa è una cosa che non mi è piaciuta l'hdr è stato inserito in un menu a scorrimento piuttosto che qui in alto scegliendo per esempio i filtri o altre impostazioni che andiamo a vedere tra poco lo scatto notturno che consente comunque di scattare foto in notturna da possibile scegliere una serie di effetti come scie luminose graffiti luminose acqua effetto seta scie stellare fare delle foto davvero artistiche i time lapse rallentatore la filigrana cioè aggiungere una filigrana sullo schermo eccola qui possiamo aggiungere per esempio il medio dove ci troviamo o quello che più ci interessa eccole qui alcune filigrane e serie la nota audio oppure scannerizzare un documento ok torniamo indietro tramite impostazioni possiamo scegliere all'istruzione se mostrare dove ci troviamo se mostrare la griglia il timer controllo audio o la possibilità di scattare delle foto di acquisire gli sorrisi di scattare quando le persone sorridono oppure seguire un oggetto o effettuare tantissime altre operazioni diciamo la fotocamera è davvero completa possibilità di attivare o disattivare il flash questa ci consente di scattare foto con scenari con profondità di campo ridotto quindi consigliata per scatti a persone oggetti una distanza di due metri circa ok togliamo un attimo il mouse tramite questo invece si possono togliamo questa modalità si possono scegliere una serie di effetti quindi mono impatto filtro blu alba nostalgina aura e tanto altro ok diciamo per la fotocamera abbiamo detto un po' tutto trovate degli scatti effettuati con questa fotocamera sul nostro sulla recensione di Honor 8 trovate il link nell'info box di questo video e mentre la prova video la trovate sempre sul canale youtube torniamo indietro e andiamo a testare per esempio un gioco quindi andiamo ad aprire Asphalt e vediamo come si comporta la GPU come ho detto è una Mali T880 ok eccolo qui l'audio è abbastanza buono ok e facciamo una breve partita ok ecco qui diciamo che durante il gioco scalda specialmente nella parte alta ma niente di particolari il calore è molto dissipato in modo molto buono eccolo qui qualità video davvero ottima ok accelerometro funziona veramente bene quindi non c'è alcun tipo di problema giroscopio quindi nessun altro tipo di problema su questo dispositivo ok non vi voglio annogliare togliate e torniamo subito indietro come potete vedere ho Pokemon Go installato anche su Honor 8 funziona perfettamente e il sistema di notifiche è molto interessante che viene suddiviso per orari quindi abbiamo l'orario abbiamo l'applicazione benessere che ora quindi è sempre attiva qui troviamo diverse notifiche quindi notifiche alle 15 e 0 17 e 0 9 16 e 46 quindi tutte suddivise su questo menu proprio per vedere dalla prima all'ultimo quindi è una cosa molto carina ed interessante impostazioni scopriamo subito le impostazioni possibilità di gestire la doppia scheda quindi possiamo scegliere se attivare o disaltare la prima scheda oppure la seconda scheda in questo momento non ho la seconda scheda integrata all'interno gestione wifi bluetooth gestione traffico dati e altro che è una cosa interessante gestione doppia scheda il telefono riconosce automaticamente quando abbiamo doppia scheda quale contatto chiamiamo e con quale sim per esempio se noi chiamiamo la mamma o il papà sempre con la scheda della Vodafone e la ragazza con la scheda della team associerà Honor 8 associerà automaticamente la scheda al numero in modo da sfruttare possibili promozioni o quello che abbiamo e stile schermata home possiamo decidere se avere standard o semplice diverse impostazioni del display quindi eccolo qui possiamo decidere lo sfondo la dimensione del carattere la luce dell'indicatore quindi l'indicatore lampeggiante in alto regolare la temperatura del colore la sospensione dopo quanto o altre operazioni e di impronta andiamo subito a vedere di impronta cosa serve di impronta serve per sia per regolare la cioè per registrare l'impronta digitale che per praticamente associare delle operazioni proprio come vi ho detto in questo caso io se non sbaglio ho impostato il doppio click del sensore biometrico proprio all'accensione del flash led eccolo qui quindi possiamo decidere tramite il menu cosa andare ad aprire quindi quale operazione effettuare abbiamo assistenza intelligente che permette di accedere a una serie di funzionalità quindi addirittura se c'è la modalità guanti o la modalità disattiva tocco per disattivare per evitare che quando venga messo in tasca l'onor 8 si premano tasti senza il nostro consenso ok andiamo scorriamo verso la parte bassa troviamo lì di huawei l'account google e tanto altro ok e lo abbiamo testato in questi giorni il prezzo è di 399 euro spero vivamente di aver detto tutto andiamo su voglio trarre delle conclusioni su questo dispositivo chi mi dice se conviene acquistarlo o meno sinceramente dico che si conviene acquistare questo tipo di dispositivo perché è veramente ottimo il prezzo 399 euro è molto simile a p9 le fotografie sono ottime i difetti i difetti sono che come ho detto in precedenza la seconda fotocamera non è non capisco quale funzionalità effettiva abbia visto che su p9 c'è la possibilità di scattare foto bianco e nero sfruttando appunto la seconda fotocamera su questo non è possibile un altro difetto sicuramente è del display quindi della luminosità adattiva che non è delle migliori ma sicuramente questo verrà risolto con i problemi con i prossimi aggiornamenti software che cosa mi è piaciuto mi è piaciuto il display mi è piaciuto il design mi è piaciuta sinceramente la fotocamera fotocamera anche anteriore da 8 megapixel che scatta delle foto molto molto belle soprattutto ha una funzionalità mi sono scordato di dirvi quella che illumina il display nel momento in cui viene scattato in selfie notturna in modo da illuminare il proprio viso e scattare delle foto belle anche di notte è dotato di connettività LTE quindi potete navigare in 4G Bluetooth 4.1 se non erro quindi l'ultima versione attuale del Bluetooth no scusate è una 4.2 quindi il dispositivo è veramente fantastico mi è piaciuto tantissimo il GPS che funziona perfettamente una cosa che mi è piaciuta soprattutto me la sono lasciata proprio per ultima è la batteria batteria da 3000 mAh che garantisce un'autonomia davvero incredibile poi complimenti ad Honor che è riuscita ad integrare una batteria 3000 mAh in pochissimi millimetri di spessore spessore di solo i 7,45 millimetri quindi sono rimasto davvero sorpreso tranquillamente si riescono a fare a raggiungere da mattina fino alla sera con una singola carica e utilizzo intenso di Honor 8 mentre se lo si utilizza con parsimonia si riesce ad arrivare fino a due giorni per oggi è tutto spero che vi è piaciuta questa recensione e vi invito a registrarvi sul nostro canale youtube grazie a tutti per averci seguito